È finita 1-1 sul campo ma questa volta contava molto di più il risultato fuori dal campo. Con Nevis Pesaro Ascoli lo stadio Benelli di Pesaro è infatti tornato ad aprire le porte al pubblico e ai tifosi biancorossi dopo quasi sette mesi di astinenza. Tanti ne sono passati da quelle Vis Vicenza 1-1 del 9 febbraio che ha preceduto l'impennata di contagi, il lockdown e la conseguente sospensione dei campionati di calcio. Come col Vicenza è finita 1-1. Come col Vicenza un'ottima figura della Vis al cospetto di un Ascoli di categoria superiore ma ancora in ritardo nel suo assemblaggio verso la Serie B. In gol è andata soprattutto la prova di maturità del pubblico pesarese che si è tenuto rigorosamente alle regole obbligate dell'apertura degli stadi post-Covid. Mascherine obbligatorie dall'accesso ad ogni transito all'interno dello stadio. Mascherine che potevano essere tolte solo dopo essersi seduti al proprio seggiolino. Termoscanner a misurare le temperature all'entrata allo stadio, botteghini dei biglietti chiusi al pari dei bar e soprattutto distanziamento sociale all'interno dello stadio. Per ogni seggiolino occupato ce n'erano infatti un paio non occupabili. Uno stadio diverso e diversissimo nella Curva Prato dove gli Ultras non hanno esposto striscioni e vessilli. Bisognerà pazientare perché il governo Conte richiuderà gli stadi fino al 30 settembre mantenendo la guardia ancora altissima sull'andamento dei contagi. Vis Ascoli è stata dunque una parentesi ma intanto è un esame superato, sia per il comportamento del pubblico sia per quello della squadra. Quella sì che ha strappato applausi ad una tifoseria costretta ad un atteggiamento più teatrale delle solite abitudini. La Vis ha in larga parte dominato l'Ascoli e meritatamente passata in vantaggio con un colpo di testa di Leli e ha legittimato a lungo il risultato prima del pari dell'Ascoli segnato dal giovanissimo Franzolini a 5 minuti dal termine. Soddisfatto l'allenatore della Vispesero Giuseppe Galderisi. Sono contento del lavoro che è stato fatto fino adesso e sono contento di come questo gruppo sta diventando un gruppo vero e ha gran voglia di diventare una squadra. Prima la squadra, questo è proprio quello che noi ci diciamo. Tutti deve venire la squadra, tutti a dedicarsi per quello.